Con l'applicazione mobile printing io posso effettuare delle stampe, ma allo stesso tempo anche delle scansioni o inviare fax. Questi nuovi multifunzione mi permettono appunto la massima convergenza fra dispositivi mobile e dispositivi di stampa. La nuova interfaccia NFC attiva mi permetterà a livello aziendale addirittura il riconoscimento. Io mi potrò identificare con il semplice appoggio del mio cellulare sul mio multifunzione, ma allo stesso tempo io potrò effettuare ad esempio delle scansioni e salvarle direttamente sul mio dispositivo mobile. In questo caso clicco l'interfaccia scan, seleziono la fonte di origine, quindi ADF, controllo, in questo caso ho identificato e mi sono legato a questa stampante attraverso anche il tag NFC, partiamo con scanner. Ho acquisito il mio documento attraverso anche questo scanner a doppia lastra, quindi con la possibilità di effettuare in un'unica scansione sia il fronte che il retro del foglio che mi porta a una velocità fino a 120 immagini per minuto e in pochi secondi sul mio dispositivo mobile ho la scansione del mio documento originale. Grazie. 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 Grazie.